Siamo con Luca Buran, chip leader di questo Day 1A della terza tappa dell'Easop Season 2016-2017, inanzitutto ciao Luca. Buonasera a tutti, sono contento di essere a questo avvenimento, e diciamo che il poker è la mia passione, quindi sono contentissimo di essere qui questa sera insieme a voi. Benissimo, hai chiuso con 327.100 chips, quindi il triplo dell'average di giornata, c'è stato un momento, una mano particolare di questa giornata che ci vuoi raccontare, oppure è stata una lenta risalita? Diciamo che il mio gioco è abbastanza regolare, quindi ho avuto diverse mani, che adesso qui di preciso non mi ricordo tutto, però il mio gioco più regolare non ho avuto grossi avvenimenti che mi hanno fatto fare in modo di fare questo stack. Quindi è stata una lenta scesa che ti ha portato ad avere questo monster stack, che ti porterà ad affrontare il day 2 sicuramente in testa al chip count, diciamo nei primi 5 del chip count. Un'ultima domanda, come intendi appunto affrontare il day 2 e il proseguo di questo torneo? Diciamo che gioco sempre, cerco di giocare sempre nella mia maniera, senza esagerare, senza fare grossi colpi di testa, regolare, e sperando di avere abbastanza carte come ho avuto questa giornata. Di solito non ne vedo tante carte. Quindi ti diamo appuntamento domenica per un day 2, diciamo, partendo sicuramente nella testa del gruppo. Perfetto, spero che mi vada bene e un crepio di un po'. Grazie a tutti!